Per contrastare il fenomeno dell'abbandono degli animali domestici, molto diffuso soprattutto durante il periodo estivo, il Comune di Napoli ha promosso la campagna di sensibilizzazione Bastardo a Chi, iniziativa per la tutela della salute e dei diritti dei piccoli amici a quattro zampe. E per chi si prepara a partire per le vacanze e non vuol lasciar solo il proprio cane, sono diversi i centri di accoglienza presenti in città e non solo, pronti ad offrire ospitalità a questi cuccioli. A quarto, nella zona flegrea, il centro cinofilo Colpo di Coda è pronto ad accogliere i cani in un vasto spazio all'aperto con piscina. Qui esperti veterinari specializzati in abilitazione comportamentale terranno compagnia agli ospiti a quattro zampe insegnando loro anche le principali regole del bonton. All'interno di questo progetto pedagogico noi il cane lo consideriamo come soggetto, quindi nella sua singolarità, ma anche all'interno di quello che è il sistema familiare. Quindi noi lavoriamo con il cane all'interno della famiglia. Grazie.